C'è un grandissimo entusiasmo in questo quartiere, una voglia di riscatto straordinaria che si manifesta nella creatività della simbologia di questo carnevale. Potenza, passione, sofferenza, voglia di riscatto e dimostrare che Scampia è altro rispetto a un forte pregiudizio che per anni c'è stato su questo territorio. E' la scuola maltrattata, il tema del 33esimo carnevale di Scampia. Scampia, organizzato come sempre dal Gridas ed inserito nel coordinamento dei carnevali dal basso di Napoli e provincia. Bande musicali, travestimenti e carri quest'anno hanno messo l'accento sulla scuola pubblica, che deve o dovrebbe formare il futuro del paese, fra storie ordinarie di tagli, precarietà e favoritismi messi a confronto con esperienze di lotta che a loro volta fanno scuola. Oltre 100 le associazioni provenienti da molte parti d'Italia che hanno sfilato proponendo la loro interpretazione del tema scelto per il carnevale. Oltre 100 le associazioni provenienti da scuola pubblica. Oltre 100 le associazioni provenienti da scuola pubblica.